Sono qua eh, sono qui in basso, in basso a destra mi vedete? Ciao sono Pasqui e Revotech a tutti! Come avete potuto vedere abbiamo appena fatto la recensione o la replica della recensione che avevamo già fatto in febbraio sul vecchio canale per le note vicende sapete che abbiamo dovuto registrarla di nuovo a grande richiesta vostra sul Samsung Galaxy S10 Lite prodotto che in questi giorni ha avuto un calo di prezzi importante attorno ai 400 euro è sicuramente un best buy da prendere quindi ribadiamo, non vi fate fregare con i nuovi Note 20 e Note 20 Ultra perché al day one, all'uscita hanno prezzi esorbitanti quindi evitate, andate su prodotti che hanno rapporto qualità prezzo tipo le S10 Lite con anche l'aggiunta del Qualcomm Snapdragon 855 vero Samsung! Dopo la sigla i nostri Revo consigli Revo Tec a tutti, io sono Pasqui nuova rubrica flash per i consigli proprio volanti delle ultime offerte che sono uscite sul nostro canale e a tal proposito vediamo subito S10 Lite a 420 anziché 679 euro e abbiamo appena riproposto la nostra recensione che avevamo fatta a febbraio in cui dicevamo che era appena uscito a 599 euro ma ovviamente adesso è calato in tutti questi mesi e ora è il momento di acquistarlo perché è un vero best buy sono tentato addirittura io di prenderlo perché io sapete che sono abbastanza un detrattore di Samsung in generale ma questo dispositivo provato anche da noi in modo approfondito con Snapdragon 855 un'ottima batteria un'ottima fotocamera un po' padella perché il display è grande ma comunque un gran bel display non ci sono i 90 Hz ma chi se ne anzi ne guadagna l'autonomia per me questo è un dispositivo da avere a questo prezzo sotto i 400 o comunque attorno ai 400 senza nemmeno pensarci troppo e ci sto facendo un pensierino vi dico la verità sapete che quando io dico che mi piace una cosa di solito me la prendo da tenere come potete vedere abbiamo anche delle scarpe in offerta delle puma oggi le abbiamo messe perché c'è un'offerta pazzesca a 19,95 su questo modello anziché a 44 che è il prezzo solito qua il posto della nostra recensione le altre offerte importanti andate su Tecticino perché ha le nuove offerte riguardanti il Note 20 Ultra e quindi abbiamo già comunque dei piccoli ribassi c'è il Note 20 Ultra Black 256 di storage 12 GB di RAM a 1149 euro che è comunque un prezzo di tutto rispetto per non dire altro invece c'è il Samsung Galaxy Note 10 che ha fatto tanto discutere per la batteria, per l'autonomia, per il suo riscaldamento che però è uno dei più belli smartphone che io abbia mai tenuto tra le mani a livello estetico veramente meraviglioso e mi aveva veramente colpito a 449 euro la versione rosa che è davvero molto molto bello soprattutto per il pianeta femminile ovviamente poi abbiamo altre offerte sempre di Tecticino 929 euro per il Note 20 liscio con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno cominciano già i premi ribassi ieri abbiamo postato quella del Note 8 versione 4 GB a 128 a 135 euro con coupon dedicato vedete qui basta copiare il coupon puoi cliccare sul link e andarlo ad applicare in fase di check out qui abbiamo Banggood poi il sempre buono e possibile e papabile a questo prezzo 523 euro per il Mi 10 liscio versione 8 128 a questo prezzo è davvero tanta roba ed è uno dei migliori smartphone dell'anno sul Pro ce lo chiedete in tanti purtroppo non ci sono offerte valide per il momento sul Mi 10 Pro ha mantenuto un prezzo molto alto e non scende soprattutto da noi se andiamo a vedere su qualche sito cinese su richiesta se ci contattate vi possiamo anche trovare un'offerta buona però soprattutto se si va ad acquistare la versione cina quindi chi vuole rinunciare alla banda B20 800 MHz ci dica qualcosa però andrebbe poi a guadagnare nella funzionalità Dual SIM nel caso abbiamo anche un'offerta sull'Apple MacBook Air 13 pollici Core i3 Dual Core di decima generazione a bassissimo consumo 1.1 GHz 8 GB 256 di SSD grigio siderale a 979 anziché 1229 poi c'è un'ottima offerta su perché non esistono solo gli smartphone ragazzi su questo Samsung TV 65 pollici Crystal Ultra HD 4K annata 2020 quindi recentissimo minimo di sempre a 569 euro per un 65 pollici di questa fattura è sicuramente un buon prezzo abbiamo il 30% di sconto a carrello poi abbiamo ancora il Minot 10 Lite che abbiamo qua che io l'ho appena ripreso su Banggood vi devo dire che l'8128 gira meglio del 628 di 2 GB in più di RAM con un processore come quello che è a bordo 730 GB comunque ottimo però si fanno sentire 2 GB di RAM in più e devo dire che sono molto molto soddisfatto adesso ho installato anche la GCAM la consiglio a tutti se avete bisogno di dritte venite sul nostro gruppo Revotech Group con la chiocciola davanti perché ci sono tanti di voi che hanno acquistato questo device e sono molto soddisfatti e ne possiamo parlare insieme qua abbiamo un ottimo prezzo su Amazon 274 euro penso che sia la versione adesso andiamo a vedere 6,64 vediamo subito la 6,64 274 anziché 299 comunque un ottimo prezzo se calcoliamo che è venduto da Italia poi la versione bianca questa invece è una cosa incredibile una smart band che è un clone evidente della Xiaomi band 3 però ha il display a colori sarà molto basica come funzionalità senz'altro ma a 1,41 euro secondo me neanche il gancino per attaccare il cinturino costa così poco qua invece abbiamo cinturino dispositivo e tutto insieme a soli 1,41 euro infatti stanno andando a ruba perché evidentemente è comunque un prodotto che a quel prezzo diciamo forse non ha molte pretese però è funzionale poi a proposito di smartphone abbiamo ancora c'è il 9S628 su Banggood con coupon 176,70 che abbiamo recensito un prodotto buonissimo a questo prezzo da prendere ho sentito dire ma adesso che ho preso il 9S sconsiglio la versione 8 di tutti i modelli della 8 io ho sentito qualcuno dire così sulla chat ma non sono d'accordo su questo punto nel senso che ad esempio il Redmi Note 8 Pro rimane oggi come anche il Note 8 liscio rimangono comunque buoni prodotti a prezzi stracciati l'8 Pro poi lo sappiamo non ne parliamo neanche nonostante il solito discorso ridondante su Mediatek poco F2 sempre su Banggood bomba 372 so che si trova anche a circa 350 su ebay ma dovete andare a vedere l'affidabilità del venditore dovete andare a vedere la spedizione qua su Banggood a me è arrivato questo telefono incredibile a dirsi ma è la verità in 6 giorni 7 di calendario da quando l'ho ordinato da Hong Kong non da Spagna o da Germania no con DHL da Hong Kong spedizione gratuita nodogana quindi se avete bisogno di consigli riguardanti questi acquisti in 7 giorni avete dei prezzi anche di la versione 828 l'ho pagata circa 277 280 euro che è davvero un prezzo super poi questo colore purple è veramente bello qui poco F2 Pro 628 sicuramente un telefono con le palle quadrate è sicuramente da considerare poi abbiamo anche l'Apple Airpods Pro ce ne sono di vari modelli c'è anche quello con la ricarica wireless e quella con il cavo di seconda generazione tre tipi diversi un po' per tutti i gusti tutte le tasche anche se si parte da 179 euro per un paio di true wireless quindi non è proprio poco qua ancora mi 10 però la Spagna quindi spedito consegnato in pochissimo tempo 3-4 giorni 5 al massimo 525 con coupon sempre Banggood e una chicca l'asciugatrice con sterilizzatore da 35 litri Xiaomi 90 euro che ahimè mi hanno fatto ordinare un attimo di meditazione ci voleva poi da Amazon sempre il minimo storico vediamo se è ancora valido 569 anziché addirittura qua è calato ancora guardate 559 euro anziché 569 che era il prezzo precedente già scontato quindi in questo momento ragazzi l'abbiamo scoperto adesso insieme la versione 828 del Mi 10 559 euro un prezzaccio per un dispositivo di questo tipo da Amazon è qua poi abbiamo anche delle TV LG 4K insomma ragazzi nell'ultima settimana ne abbiamo viste delle belle anche questo multi hub da 19 euro che da Gearbest è sicuramente un ottimo prezzo della Baseus docking station che è una sottomarca di Xiaomi quindi fa le cose fatte molto molto bene ElectroSmart Onix Free a 23,3 con coupon sempre se è ancora valido ma dovete provarlo voi nel caso in fase di check out a carrello qui abbiamo ElectroSmart Apollo Bold che stiamo provando recensione a breve mi hanno stupito poi abbiamo adesso ce l'ho nel mio massupio abbiamo le Blueidio Particle cuffiette che non mi hanno convinto del tutto e le Aukey della Key Series T10 ottime 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 con anche ricarica wireless veramente buone ma quelle che mi hanno stupito più di tutte tra le tre vi devo dire che queste col fatto che c'è la soppressione attiva del rumore queste sono davvero fenomenali vi diremo poi nella recensione detto questo ragazzi il video flash sui nostri Evo Consigli finisce qui ci vediamo alla prossima puntata tra circa 10-15 giorni intanto nel mezzo ci saranno succulenti video e recensioni non perdetevi le novità perché Revotec sta cambiando ma sta cambiando per voi per darvi sempre qualcosa di meglio e per essere sempre al vostro servizio vi saluto ci vediamo prestissimo e Revotec a tutti ciao Grazie a tutti The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger